Gentili telespettatori, buona giornata. C'è stata un'assemblea del centro-sinistra dove ha partecipato anche Giuseppe Conte. I grillini dicono Conte è più con loro che con noi e hanno ragione. A Conte sta stretto il Movimento 5 Stelle. Conte vorrebbe essere un dirigente del PD, vorrebbe essere il capo di Forza Italia, vorrebbe fare qualsiasi cosa tranne che essere il capo dei 5 Stelle. Anche perché nei 5 Stelle la situazione tra Casaleggio, Grillo, che fa il capo, ma insomma non c'è un gran futuro nel Movimento 5 Stelle. Allora si presenta all'assemblea di articolo 1 e il ministro della Salute ribatte a Matteo Salvini senza nominarlo, l'innomineto e dice presto si riaprirà, si tornerà nei cantieri, nelle fabbriche. Ma attenzione che le fabbriche sono già aperte, ma che dici Speranza? Vabbè, nelle fabbriche, nei luoghi di discussione e questa è una cosa grande e bella. Oggi possiamo dire che si riapre perché siamo stati attenti e prudenti e dobbiamo esserlo ancora perché non vogliamo tornare indietro. Quindi si riapre perché sono stati prudenti, non perché Salvini ha chiesto di riaprire, ma realmente le riaperture totali non ci sono, non c'è una data. Si è detto e si è parlato che lunedì 17 parleranno forse di spostare l'orario dalle 22 alle 23 per le chiusure serali. Intanto è presente ovviamente anche Letta che risponde a Salvini che proprio questa mattina ha detto che le riforme con PD e 5 Stelle non si possono fare. Letta dice se Salvini dice che non si fanno le riforme, Salvini tragga le conseguenze ed esca da questo governo che è fatto per fare le riforme. Le riforme vanno fatte, dice, la riforma della giustizia va fatta adesso, anche quella del fisco va fatta adesso, non si può eludere. E così Enrico Letta ribatte al capo della Lega che era dubbioso appunto sul trovare un'intesa con questi partiti per fare le riforme. Beh, questo vertice della sinistra di governo Letta sottolinea l'apprezzamento per la determinazione calma del ministro della salute Roberto Speranza e ribadisce la linea del PD sulle riaperture. Si riapre in sicurezza. Noi siamo stati quelli che hanno garantito che non ci fosse nessuna scelta sbracata. Fosse stato per altri noi avremmo sbracato, aggiunge il leader Dem, riferendosi ancora a Salvini. In realtà Letta e Salvini dicono esattamente la stessa identica cosa. Aprire, se i dati lo permettono, lasciare chiuso se i dati dicono di lasciare chiuso. Però il fatto è che i dati dicono di aprire e non si è aperto. Ecco, insomma, capite che le cose, in questo caso, quello che sta dicendo Letta non coincide con la realtà. Se i dati sono positivi e si riapre, in questo momento i dati sono positivi e non si è riaperto. Questa è la realtà. Presente all'assemblea di articolo 1 anche l'ex premier Giuseppe Conte. leader non si sa del Movimento 5 Stelle e dice abbiamo alle spalle un cammino comune con il PD e l'EU, fatto di franco e continuo scambio e di arricchimento reciproco, che non parte dall'arrogante posizione di chi vuole affermare solo il proprio punto di vista. Una collaborazione salda. Questa esperienza non può essere accantonata. Dobbiamo continuare a lavorare insieme e dobbiamo darci un orizzonte. E poi parla delle alleanze sui candidati sindaci in vista di ottobre. E dice così abbiamo varie occasioni per rafforzare il dialogo, quella immediata e offerta dalle amministrative. In alcune realtà costruiamo una perfetta intesa e una proposta congiunta. In altre possiamo recuperare una collaborazione al secondo turno. Altre in cui dobbiamo prendere atto che per varie circostanze, su cui non riusciamo al momento ad intervenire, non si può correre insieme. Ma l'importante è l'intensità della voglia di cercare soluzioni comuni. La soluzione comune che vogliono trovare è quella di vincere, di non far vincere il centro-destra. Però le alleanze costruite sulla mission, non far vincere l'altro, non hanno delle basi solide. Un'alleanza dovrebbe essere costruita su visioni comuni, ma se viene costruita solo nel battere l'avversario, nel non far governare il centro-destra, questo è successo con il governo proprio di Conte. Il Conte II nasce per non far governare il centro-destra. Le alleanze alle amministrative stanno cercando di farle per non far vincere il centro-destra. Ormai hanno capito che il centro-destra è la maggioranza nel Paese, lo dicono tutti i sondaggisti, anche quelli che cercano di nasconderlo non lo possono fare. Il centro-destra è in vantaggio in tutte le regioni, in tutti i comuni e così la sinistra deve per forza allearsi con i 5 Stelle se vogliono avere una possibilità di poter forse da qualche parte vincere. Guardate le regioni, quasi tutte, 75% sono governate dal centro-destra. E così in vista delle elezioni di ottobre, quando si sceglieranno i sindaci di città chiave come Torino, Milano, Bologna, Roma, Napoli, Speranza risponde a Conte con un appello a PD e 5 Stelle e dice dobbiamo da subito lavorare perché questo nostro stare assieme possa essere da subito coltivato. Sulle amministrative io penso che dovunque c'è un margine per lavorare insieme da subito, noi quel margine dobbiamo andare a vederlo e bisogna essere chiari, dobbiamo assumere un impegno a scatola vuota, dicendo che dove non riusciremo a fare un accordo al primo turno, lavoreremo assieme per sostenere il candidato di chi in questa famiglia è arrivato al secondo turno. Quindi i due partiti ad esempio PD e 5 Stelle vanno con posizioni assolutamente diverse in questo comune X, però se poi si va al ballottaggio bisogna sostenere l'altro partito anche se non si condividono le idee, avete capito? Per battere la destra anche se non si condividono le idee bisogna sostenere l'altro, quindi non è una politica delle idee, delle cose da fare, ma un mero gioco di palazzo. Qui non parliamo dei palazzi romani ma dei palazzetti dei comuni, gioco di palazzetto, ecco. Avete capito PD e 5 Stelle? Non un'alleanza sugli obiettivi, un'alleanza per battere la destra. Poi se ognuno va per conto suo al ballottaggio dobbiamo sostenere l'altro anche se non condividiamo le idee, perché se avessimo condiviso le idee saremmo andati uniti. Avete capito che tristezza? Ma è così, non c'è da stupirsi. La politica è questo, la politica è alleanze per mantenere il potere e i soldi dello stipendio. Tutto lì. Grazie a tutti quanti, buon proseguimento di giornata, ci vediamo tra una ventina di minuti per un altro video. Siamo anche in Facebook, in Tele Italia Seconda Rete su YouTube, in TikTok, poi ci sono anche gli abbonamenti al canale, un euro al mese per poter vedere alcuni video dedicati solo a chi ha questo abbonamento. Arrivederci a tutti e ci vediamo se volete tra una ventina di minuti.